Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Viterbesa è certo in difficoltà, ha risultati nettamente inferiori alle attese. Un solo punto, 10 gol incassati. Sembra già un testa-coda, ma dall'alto della sua esperienza, Auteri sa benissimo che oggi la classifica, dopo appena quattro giornate, non conta granché. Ma neanche la guardo la classifica, quindi proprio adesso mi viene da sorridere perché veramente non conta assolutamente nulla. Però in un ambiente come questo, quando poi si viene da una retrocessione, cominciare bene è importante per l'ambiente perché può raggruppare i tifosi che hanno soltanto questa passione per la maglia. Noi dobbiamo fare soltanto questo, quindi qualche piccolo vantaggio ci può essere. Infatti faccio anche un gentile invito, mi aspetto anche una buona partecipazione, noi non deluderemo nessuno. Guardi, l'organico della Viterbese non è un organico che merita questa classifica, ha un contenuto totalmente diverso come livello. Ha fatto anche delle buone gare in questo inizio di campionato alla Viterbese e non avremo di certo, ma nessuno se lo può poi permettere un atteggiamento come, cioè superficiale oppure dovuto, oppure... Ma non esiste proprio, le partite si giocano in campo e si vincono in campo, soprattutto ed esclusivamente in campo. Out, Pompetti, Chiarella e Bocic, Clemenza in grosso recuperati. Probabile una variante rispetto all'undici schierato col Montevarchi. Dentro dal primo minuto De Marchi, fuori Dursi, 3-4-3. La probabile formazione di Gennaro Trepali, Ianes, Drudi è in grosso nel cuore della difesa. Cancellotti è in zitta sulle fasce, a metà campo Rizzo e Memusciai, davanti Galano e Rauti, a supporto di De Marchi. Tra esterni e prime punte, nove attaccanti in rosa, ma soltanto due gol. De Marchi a Carrara e Clemenza contro la Vis Pesaro l'Adriatico per il tecnico Biancazzurro. Solo un dato statistico e nulla di più. Anche questa è una casualità, insomma, questi dati statistici dopo cinque giornate di campionato hanno un'importanza relativa, molto relativa. In realtà ho visto molto bene gli attaccanti tutti, da De Marchi a Rauti, in grande crescita, a Galano, a Clemenza, che è rientrato totalmente in gruppo. L'importante è che noi possiamo essere in grado di produrre, questa squadra lo ha dimostrato. Poi per il tipo di calcio che giochiamo è anche abbastanza normale mandare in gol tante persone, ma è chiaro che gli attaccanti sono una parte dominante. Di fronte la Viterbese, squadra completamente rinnovata, ben 18 operazioni in entrata, un solo punto in quattro gare, 10 reti al passivo, ma anche 5 realizzate in due partite, disputate in trasferta. Unico assente è il lungo degente Volpe. Sistema di gioco 3-5-2, bisogno tre pali. Dietro l'olandese Van der Felden, l'esperto d'Ambrosio, e il rentrante Martinelli. Pavlev e Urso sulle fasce. Centrocampo il lituano Meghelaitis, sorta di schermo davanti alla difesa. Mezzali Calcagni e Fabio Foglia, abruzzese di Cologna, ex Teramo, soprattutto giovanili Delfino, vicecampione d'Italia Berretti nel 2008, tripletta nelle immagini contro la Pro Sesto nella finale di ritorno al campo San Marco. In attacco Volpicelli e il brasiliano Murilo, ex Livorno, punte di movimento. Se così fosse, Capanni partirebbe dalla panchina, così come Tassi. Il tecnico Alessandro Dalcanto. Ogni gara fa storia a sé, ogni partita è diversa da un'altra. Noi oggi abbiamo bisogno di tentare di andare a fare un risultato positivo con tutte le forze che abbiamo, quindi siamo concentrati principalmente su questo. Ci sta che all'inizio, dove venivamo da un ritiro fatto per bene, da la prima di Coppa Italia vinta e la rimonta di fermo, ci abbia dato una sensazione di... no, di presunzione, però comunque di grande consapevolezza in noi stessi che rischia alle volte di sfociare in qualcosa di diverso. Oggi questo pericolo non c'è più, siamo in fondo alla classifica e siamo noi che dobbiamo tirarci fuori da questa situazione qua, quindi non credo che al di là del fatto di incontrare la prima in classifica ci sarebbe stato un problema nell'approccio alla gara. Due precedenti all'Adriatico storia di 20 anni fa, 10 febbraio 2002, la Viterbese di Puccica impartisce una severa lezione all'11 di Ivo Iaconi, 2-0 il verdetto finale, gol di Martinetti e Vitali. La stagione successiva, 9 ottobre 2002, l'ampio riscatto dei Bianchazzurri che prevalgono nettamente, grazie alle reti di Di Fabio, Minopoli e APA, momentaneo 1-1 del solito Martinetti. La Viterbese non evoca bei ricordi per Gaetano Auteri, esonerato lo scorso 7 febbraio dal Bari dopo il K.O. interno con i Laziali. Il tecnico siciliano verrà richiamato a due giornate dall'epilogo della stagione regolare. Gioie e dolori invece per dal canto che in B subentra a Calori alla guida del Padova, promosso dalla primavera ed espugna all'esordio l'Adriatico con questa doppietta di Matteo Ardemagni. 15 marzo 2011, da una parte Verratti è entrato nella ripresa dall'altra El Sharawi. In quel Padova anche l'attuale allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano che colpisce l'incrocio su calcio di punizione. Con i Veneti dal canto è protagonista di una grande rimonta arrivando ad un soffio dalla promozione in Serie A nella finalissima persa col Novara di Tesser. Confermatissimo dal canto non si ripeterà. Pescara l'anno successivo conquista un prezioso pareggio a tempo scaduto marcatore Trevisan, ma nel match di ritorno subisce all'Euganeo una sconfitta debordante. 6-0, doppiette di Immobile e Insigne. Un gol a testa per Cascione e Nielsen. Il giovane Mattia Perin, poi Biancazzurro, evitò altrettante reti. Ma quello era l'inarrivabile Pescara di Zeman.